Musica Rieccoci qua dopo vari problemi che TeamSpeak era morto e cose varie Siamo passati su Skype, spero che la qualità audio non faccia schifo, che non cali durante il video Comunque parlando con fogliere della realizzazione degli obiettivi Abbiamo pensato che è bene creare questa zona, ovvero quella dove sto ampliando adesso Che appena finisco questa linea vi faccio vedere Ho finito anche il dirt, vediamo se questo ce la faccio Allora, l'ho aspettato un attimo Tutta questa zona, già dove ci sono questi alberi, la utilizziamo come foresta Così già finiamo anche l'achievement, costruire una foresta E pensiamo bene di ampliarci lungo la casa, nel senso di ampliarci di fronte la casa In questo modo ci creiamo un'altra zona dell'isola Dove possiamo crearci il faro, la trappola per mob e la trappola per animali Anche se penso che la trappola per mob è bene farla nella foresta, no? Sì Dimmi se sbaglio Sì, spavano Adesso invece Perché Spesso sto leggendo il messaggio Lol Dobbiamo crearci friends, fans a non finire Perché dobbiamo separare tra virgolette l'isola In modo che tolgo le torce così non si spawnano gli stronzi Eh Non so se mi capisci, no? Sì, ti capisco Bravo, bravo Però io sto prozettando, allora non ti sto cagando un po' No, va bene, non devo No, non mi hai fatto niente di te se non mi caghi Mi importa che capiscono i nostri utenti Intanto sto togliendo le torce così Già una cosa positiva Ok Allora Tu devi crearmi le fence Perché io non ho la più ben chiamine Ma devi come cazzo ti faccio Ogni tanto sto iniziando a piantare gli alberi Ma te ne devo fare? Eh, un bel po' C'è conta che dobbiamo riempire una bella linea Non te ne vanno bene, tipo Aspetta, non vorrei che ne venissano troppe Otto, sedici Sedici, no, poche lol Ok, direi che il bosco è fatto Adesso l'importante è che cresca il tutto Ok, mi serve la fence Così già abbiamo separato queste due zone di cosa Sai fare anche il fence gate Il portoncino Certo Bravo, bravo, crealo Come un bravo pro Ovvio che sì Ok Ok, ho filato Ok, ho finito Lol, cioè tu hai progettato l'acqua E ci stai riuscendo Sì Lol Cioè ci sei riuscito, punto, lol Mamma mia che idolo che sei Cioè, guarda Cioè, guardate Cioè, cliccate mi piace solo per Per vedere la proezza di quest'uomo Quest'uomo Non hai fatto il fence gate, io ti ammazzo Mi serve della legna, ho filato in uno stronzo Quale legna? Tieni Quest'uomo Ok, basta Eh, sì, dovrebbe Ok, intanto io Quanti fence gate? Uno o due? Eh, fanne due va Così magari poi Allora, intanto Mi divido l'isola Così nessuno può saltare Blablabla Ma i ragni saltano i fence? Eh, no, no Buono Sono fatta apposta Godo, godo Ok Abbiamo separato questa parte di isola Anzi, 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 anzi Anzi, anzi I ragni I ragni forse si arrampicano più che saltare Eh, vabbè Andammi qua Vabbè, piazzali direttamente Beh, qua oltre che i ragni Potrebbe nuotare uno scheletro Qualsiasi altra cosa E venire avanti E vabbè, sti cazzi Si avviene avanti bene Non è che siamo Immortali Questo è sparto Un'altra idea L'erba è entrata in casa Per dirti in un'altra L'erba? Lol Sì Buono Mi serve stone Stone a non finire To, to, to Stone bella No, la cobblestone Cobblestone, cobblestone Sì, certo Ok, dammela Tutta quella che hai Così creo anche la strada Per la foresta Non so se Sì, sì, sì Vabbè, tu dammi tutta la linea Che hai visto che Cominzo a fare un po' di scalini Qua se vuoi Per fare un po' più figo Aspetta, dire Vomito come un maiale Allora Intanto qua Inizio a fare L'altra strada Non è più legno? Eh, sì Non lo so Secondo te ci conviene Fare gli scalini Per tutta la miniera È lo stesso Dimmi te qualcosa Sì, perché quello È l'unico punto Dove possiamo Tra le virgolette Andare in basso Quindi è meglio farlo bene Ok, allora Dove restarmi un po' di linea Che comincia a far scalini Eccetera, eccetera Vieni qua, please Che te la ghivo Sono qua Vedo di te Allora, tieni Grovier cosa stai facendo? Ma che cazzo Stai sboccando pietra Sì, pietra No Cazzo stai dicendo Sì, sto sclerato dai, lasciami stare Sto perdendo la terra Sto perdendo la terra Vabbè, tanto la abbiamo a sufficienza Non è che Massimo, poi la troviamo Sì Sotto terra Sotto terra Sotto terfugi Sotto terranei Allora, cominciamo a fare le scalette Eccetera, eccetera, eccetera Qua però Ma mi conviene farmi una pala Ho capito Bra Anche io potevo farla Skype è odiabile Solo che funziona sempre L'unica cosa buona che ha è quella È odiabile perché è pesante Ma che cazzo sto facendo? Stavo rompendo La cobblestone con l'ascia Che cazzo ridi? Oh, può succedere? Sì, ok Non essere così crudele, bastardino Ok Scusami, zampi La prossima volta Prego, prego Però Qui la Il verde non potrà mai passare Quindi dobbiamo Distruggere un attimo questo Dove? Una delle fence No, no Qua Faccio così, così passa Ok Questa cosa devo capire bene Ok, ok Tu qua devi scendere E dirmi Devi comandarmi qualcosa Io devo comandarti? Sì Aspetta Non so come fare Se lascerla così Se sta bene Se allargarla Se stringere Perché qua è un casino Zacco dappertutto Allora vediamo Cosa vuoi È un crisi di casino Qua le scalette Venendo all'inzù Come sono Come devo fare Bla 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 A parte oltre che mettere le scalette Devo allargare Ampiare Stringere Ampiare non è un problema Basta che poi si arriva Si arriva alla zona Quella grande È presente quella che c'era Sì? L'azzo Magari Si puoi fare questa Magari sistema un po' questa Nel senso Fai un buco Uguale Ok ho capito Comunque tipo Basta che si scende giù E basta Cioè non importa Se fai grande Questo tunnel Che c'è Delle scale fatte In In fango Qua Bene 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 Cioè non è importante L'importante è che ci si arrivi E basta Senza farsi male Io devo mangiare Buono mangia Ok intanto la nostra foresta Sta prendendo forma Good 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 Le torce Le piazzo anche fuori casa Che è utile Se trovi carbone Prendilo perché Vabbè io ho 14 Scherzavo Anche se può essere utile Comunque Ok Ragazzi che ne pensate Scriveteci nei commenti Intanto che ne pensate Di questo Di come sta avvenendo Quest'isola Come Come pensate Che verrà Se volete darci suggerimenti Su Su come farla Non Non siate timidi Dateci tutti i consigli Possibili Tutto Tutto Noi apprendiamo E facciamo Esatto Dipende anche Se sedite Prendete Uccidete Quindi non lo facciamo Ovviamente però Allora Intanto inizia ad ampliare Quel pezzo di Di isola Che avevo accennato prima Ok Io intanto Questa facendo Quello che hai ordinato Più che altro Una cosa utile Perché Nei prossimi episodi Dovemmo scendere in miniera Per trovare cobblestone E cose va Cioè dopo Non dico nei prossimi episodi Perché I prossimi episodi Saranno ancora Ampliare qui Il discorso Dell'isola Sistemare un po' il tutto E infatti Cioè Dobbiamo trovare Un po' di simmetria Al tutto Dobbiamo stabilirci bene Esatto Esatto Intanto sto appriando l'isola In questo modo Anche se è molto quadrata Però chi se ne fotte Sei d'altronde Più che quadrata Su sto gioco E infatti C'è Prima ho visto Le texture pack A 512 Non so cosa sia pixel Credo E sono veramente cose assurde Questa è 16x16 Quoto Fanno paura quelle In HD Esatto Fanno paura Sono veramente figa Quoto Tutti quelli che non lo sanno Andate Oh che cazzo Andate sul server Sul server Sul forum di minecraft Che è minecraftforum.com Se non sbaglio Trovate la sezione Texture packs Dove potete trovare I tutorial Su come installare Queste texture Installarla anche voi Sì O magari Semplicemente Che su youtube Si trovano I video Quindi si fa prima Vabbè anche Anche con i tutorial A video Può venire più semplice Mi diventa veramente Più figo minecraft Dopo Yes Anche se Vi ricordo Per chi ha pc Poco performanti È meglio che non lo fate Perché altrimenti Poi ve la venite a prendere con me Che cazzo Mi hai fatto fare Adesso minecraft Mi gira lentissimo Esatto Perché ricordo che Se installiamo queste texture Si rallenta il gioco Più di quanto non l'è Quoto Tranne per Soyer Perché c'ha l'i7 potente Ci gira a 700 fps Ma va bene lo stesso Io sono uno stronzo Che recca a 20 fps Lol Non so cosa aveva Ah lol Io l'ho messo nel cellulare Ho installato minecraft pocket edition Devo comprarlo Che costa 4,99 Magari poi in futuro Ci farò un video Ah si Ma devi comprarlo No c'è la pocket edition Che non hai alcuni oggetti Però c'è anche la La versione completa Che hai tutti gli oggetti Sbloccabili Forse Nella versione pocket C'è quella free Non puoi forse salvare i mondi Cioè non li puoi salvare Forse E in quella Comprata Credo li puoi salvare Se non è così È un fail abnorme Allora l'altra sera L'ha messo tipo Nel divano Che non facevo un cazzo Mi sono creato la scritta Jumpy Tech sul cellulare Dovevo screenarla Ma poi l'ho chiuso brutalmente il gioco Ho detto Affanculo Molto delicatamente Perché android o iphone Deve provarla St'applicazione È troppo figa Boh Qua È fatto Ok Quindi Direi di stoppare qui l'episodio Così riempio questo buco di acqua Dato che Capisco che per voi è molto noioso E ci vediamo fra poco ragazzi Fra poco La prossima settimana Con il prossimo episodio del venerdì Ciao Ciao